Siamo a Nova Gorizza, alla stazione ferroviaria Transalpina, dove tra poco è in partenza una nuova avventura, il Vinsky Vlac, il treno del vino, che ci porterà nella Valle del Vipacco, nella Vipausca Dolina, fino ad Aidoscina, alla scoperta dei migliori vini locali. Non vedo l'ora di partire! Svi gelato. Svabve. 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 Lepo pozdrav, ne vsem skupaj. Lepo je milje, da smo to na てm Vinskem Vlacom in Pavvske Doline. Miljo. Svabve. Lepo le potpierate, no kai, no z'hotbe. Vamo, vsi kozarci? Ole! Yeeey! John? Siamo arrivati ad Aidoshina dove ad attenderci giustamente c'è la Bora. Sul treno abbiamo degustato due vini, adesso qui avremo la visita guidata della città durante la quale degusteremo ancora altri vini, quindi andiamo alla scoperta di Aidoshina. NONONONONONONO Adesso ripartiamo da Eidoscine, andiamo verso il paese di Dorenberg dove ci attendono altri vini di un altro produttore locale accompagnati da delle specialità della casa. Pijamo ga radi, pijamo ga radi. Przi smo v Dorenberg in imamo zei lepo naspelejo in bojo tam vinarje. Vipavska dolina Lepo zdravsem skupaj na vinskem vlaku Vipavske doline. Evo, zdaj smo v Vasi Dorenberg in celotna dogodivščina je prelepa, to je ena čudovita vinsko kulinarična dogodivščina Vipavske doline. Ena gospa je rekla mal prej tam meni, vse je kot v nebesih, tako je lepo. In imamo kaj drugega za dodatko, če prite na vinski vlak. Evo, čin. Dobar dan vsem, pa smo v Vinarstvo Žorž iz Slaba privi Pavi. Naša tradicija seha v leto 1696. Druhač pa samo v Vinarstvo, imamo trenutno 24 hektarjev. Od tega se posvečamo predvsem našim avtohtonim sortam Vipavske doline. Tako da pri nas zelen in pinela so te glavne, glavne sorte, kar jih delamo. Ta vinski vlak, to je tako inovativen produkt in za nas zelo, zelo dober, ker s tem podpiramo lokalno. Tako da prite in na zdravje. Ena, va, tri, treba! Ohhhh! Grazie a tutti.